è una domanda su su kivio rosascia perché sia poi alla fine è ovvio insomma sono arriva è arrivato l'arsenal anche con tanti soldi per convincere lo spezia insomma la prima league affascinante per tutti ma è vero che anche il napoli comunque seguiva con attenzione il ragazzo per il trasferimento all'arsenal il napoli lo seguiva piaceva ma dall'inizia il direttore giuntori era chiaro che il napoli a gennaio non lo fanno e non fanno operazioni perché è normale ce l'hanno un gruppo incredibile secondo me non serveva di fare come però era un giocatore che lui segueva che poteva se domani ce l'aveva bisogno di fare con centrale mancino è possibile era possibile che che andava a venti la cosa che quando gli inglesi arrivano è un altro mondo è un altro livello a parametri di soldi a parametri di offerta e poi arsonal hanno hanno fatto la trattativa abbastanza veloce quindi a questo momento il ragazzo voleva andare all'arsenal sascia stavi stavi concludendo poi ci salutiamo non ti rubiamo altro tempo no 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 non ce l'avevo promesso che parevamo un po' grazie ti dicevo che arsonal era come un sogno per il ragazzo premier league anche loro come l'avevete detto sono primi in classificazione quindi squadra importante grazie a tutti